Il doppio chilometro per anziani di categoria F e non partente Ulia di Risaia sono nove i concorrenti al via. Prima fila Valua Isa S, Zimaria, Terrible Bless, Dungaro e Tessito Reggetto. In seconda Trofalzac S, Sector, Valentina Lazerhead, Oxford Street. Ungaro è il più sollecito alla chiusura delle ali impegnato da Terrible Blessed che vuole scavalcare Valua Isa S e vi riesce all'imbocco della prima piegata. Allargo Tessitore. Ungaro leader con Maione che cerca di moderarne gli ardori. Si affaccia per vedere se arriva Tessitore. Passaggio davanti alle tribune. Ha il frussino girato davanti quindi corre in testa Ungaro. Quarto iniziale in 29,5. La scia di Tessitore è rimasta scoperta e presa da Valentina Lazer che copre Valua Isa S. Poi via via gli altri. 45,3, 600. Si viaggia sul piede dell'1,15 e mezzo con Ungaro a dettare il ritmo affiancato da Tessitore e Getto. Terrible Blessed in seconda posizione. Valua Isa S in terza. Il treno esterno in schiena a Tessitore e Getto c'è Valentina Lazer che precede Zimaria. 1,1, gli 800. Sempre apparigliati Ungaro e Tessitore e Getto. 16 secchi il primo chilometro. Passaggio davanti alle tribune. Ungaro che controlla Tessitore. La mossa in terza di Valentina ad 800 dalla conclusione. Perde qualche battuta Tessitore. Valentina è costretta ad aggirarlo. Mentre Ungaro è filato da Terrible Blessed che è già a destra. Non vuole rimanere chiuso. Terrible Blessed ha fiutato l'affare. E sta passando a 500 dalla conclusione. Inseguito da Valua Isa S. Prova la fuga Terrible. È incisivo Valua Isa. Peppe Maisti in fuga. La Deschi che lo rincorre. Poi si è liberato anche Trofalzac. Retta d'arrivo con Terrible Blessed che ha un po' affievolito lo slancio. Ma nessuno è in grado di tenere il suo stesso ritmo. E Terrible Blessed va a concludere. Mentre per il secondo Trofalzac precede Valua Isa S. 3-7-1. L'arrivo probabile ed ufficioso. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.15.3 sul doppio chilometro. Per Terrible Blessed il figlio di Varenna e Giberna del Rio. Del signor Francesco Guarino. Con Maurizio Pellegrino al treno. Ed in salchi GP Maisto. Il signor Francesco Guarino al treno.